Passaggio in Piemonte per la carovana del terzo golf challenge, cancro primo aiuto, trofeo caloni trasporti. Domenica 14 luglio si svolta la sesta tappa nello storico golf club Castel Conturbia in campo un'ottantina di giocatori. Cancro primo aiuto ha donato al comitato di Borgo Manero della Croce Rossa italiana un veicolo per il trasporto sociale e servizi sul territorio con i volontari. Scopo del golf challenge CPA lanciato nel 2017 è unire lo sport alla solidarietà con azioni concrete. Un obiettivo reso possibile dal sostegno degli sponsor del network. Cancro primo aiuto. In questa splendida location del golf club Castel Conturbia siamo qua oggi per la sesta tappa del CPA challenge di cui caloni trasporti è main sponsor. Per questa iniziativa benefica che ci porterà alla consegna di un'autovettura alla Croce Rossa italiana della sezione di Borgo Manero. Siamo qui al golf club di Castel Conturbia insieme ad Auto Torino e a CPA per la terza tappa del challenge di golf per la consegna dell'autovettura alla sezione della Croce Rossa italiana di Borgo Manero. Questo è quanto Auto Torino vuole e si sente di fare per il sociale e per lo sport insieme. Sponsor di tappa a Castel Conturbia è stata Banca Sella come già nella gara di Tolcinasco. Mi congratulo con Cancro primo aiuto per la perfetta organizzazione dell'evento in una cornice meravigliosa e confermo l'onore e l'orgoglio di Banca Sella che per la seconda volta è stata sponsor di tappa e ha potuto partecipare attivamente a questo magnifico evento di solidarietà e di sport. Confido in futuro che la collaborazione con Cancro primo aiuto si possa consolidare e quindi di essere parte attiva anche agli prossimi eventi. La donazione di quest'auto che avviene oggi grazie a Cancro primo aiuto e l'evento che è stato organizzato qui a Castel Conturbia ci aiuterà sicuramente ad accompagnare i pazienti per visite, per trasferimenti, per accompagnarli a fare terapie. Quindi quello il nostro è un sincero ringraziamento per aver pensato alla nostra organizzazione ed è particolarmente bello che un'altra associazione non proprio del territorio abbia pensato a noi per questo. Quindi veramente grazie. Prossima gara del terzo CBA Golf Challenge domenica 11 agosto al Golf Club Bormio.